sulle donne. Tutto questo ha molto a che fare con la violenza sulle donne, perché nel momento in cui un uomo, un bambino, una donna, una famiglia, una città, una comunità, non ha un progetto, non ha una visione, non ci può essere un confronto. Perché tutti si tengono dentro il fatto che è possibile cambiare, cioè vogliamo mantenere lo status quo. Ho dei benefici da questa società, una società sufficientemente ricca, il PIL sta scendendo, mi metto in una posizione difensiva, mi chiudo, mi chiudo, mi incomincio a chiudere. Il problema è che nelle culture italiane in questo momento, nelle culture politiche, ma nelle culture anche proprio quelle promosse dalla sinistra, se vogliamo, c'è una chiusura, cioè mancano effettivamente delle idee. Il successo del 5 Stelle è il fatto di voler declinare determinate idee secondo un livello vibrazionale diverso. Per quello si dice movimento, perché noi dobbiamo mantenere un scambio. Cioè l'idea di movimento è l'idea di mantenere uno scambio. Quindi a questo io, visto che ho parlato di cultura, c'è un esempio a cui sono particolarmente affezionato, ed è quando Virginia Woolf ha scritto un saggio che si chiama Una stanza tutta per sé. Nel momento in cui noi parliamo di violenza sulle donne, Virginia Woolf diceva che la libertà intellettuale per una donna, cioè la capacità di dire di no, questo non lo voglio, questo non lo voglio, io vado per questa strada, è assolutamente legata all'idea di un'emancipazione di tipo economica. Una donna che non ha i soldi per potersi comprare del cibo ed avere una stanza tutta per sé, è una donna che non potrà avere una libertà intellettuale. Non potrà averla. Questa era la tesi di Virginia Woolf. Lei diceva di essere una persona, lei diceva di essere una persona, come è che si dice il termine, aiutatemi, quando sei privilegiata, perché aveva una rendita, aveva una piccola rendita che le ha permesso di arrivare a scrivere un saggio per un convegno, il primo convegno che è stato fatto nel primo college, vabbè in Inghilterra non si chiamano college, comunque università inglese, perché erano separate, erano scisse, non c'erano maschi e femmine insieme, e lei diceva, voi siete qui, ma state seguendo un modello culturale che avete introiettato di tipo maschile, per cui andrete a fare determinate cose che la società ha già previsto che sono delle attribuzioni maschile, cioè l'uomo vuole che voi facciate questo. E ritorniamo al discorso della cultura. Noi non possiamo sapere cosa faremo, cosa sarà di noi, io mai e poi mai mi sarei aspettato di essere eletto in Parlamento, ve lo assicuro. E ci sono alcuni amici qui, c'è Andrea Maggi, che ritengo estremamente più, se le coincidesse avessero voluto, sicuramente per il mio modello culturale del 5 Stelle, lui era molto più meritevole di entrare in Parlamento, perché è stato estremamente coerente nel suo modo di essere, di declinare il privato e il pubblico, nelle sue scelte. Io ho fatto una scelta minimalista, ho scelto un gruppo territoriale, ho scelto un gruppo tematico, che era la sanità, e l'ho portato avanti, perché poi comunque mi incaponisco all'interno di alcune situazioni, quindi creo un solco, un solco che necessariamente è, è impregnato anche di queste cose. Per concludere, quindi le culture diventano violente nel momento in cui sono chiuse al loro interno, rispetto al confronto con altre culture. E questo succede nel momento in cui anche, nel momento in cui noi andiamo a vedere queste tragedie, è perché di fatto in questo momento le culture italiane sono chiuse e questi direbbero, i psicologi sistemici, sono dei poli sintomatici di un sistema che sta fibrillando e sta spurgando, perché sono le parti più deboli, sono le parti meno resilienti, che nel momento in cui subiscono uno shock non hanno gli strumenti per ristabilire un equilibrio precedente. E quindi non hanno accesso a quella profondità, a quella capacità anche di deprimersi, di andare sotto, che è una capacità femminile che gli uomini poi possono imparare, per cercare di spiegarsi laddove uno ha commesso degli errori. Voglio citare due testi che sono di Eric Neumann, che alcuni di loro conosceranno e qualche altro addetto ai lavori conoscerà, ed è la psicologia del femminile e soprattutto la storia dell'evoluzione della coscienza. Nel momento in cui noi andiamo a prendere la coscienza umana, cioè la capacità di riflettere su di sé, sempre Virginia Woolf diceva che ognuno di noi ha un piccolo bollino nero dietro la nuca che è impossibile vedere, perché è impossibile vedere, perché nel momento in cui ci spostiamo e nel momento in cui noi guardiamo, questo bollino nero si sposta con noi ed è un punto nero. Questo punto nero è un pochino il nostro aspetto più violento, che non vogliamo vedere, è un po' il momento in cui noi imbrogliamo le carte, non siamo autentici. è il mancato dialogo fra la nostra parte femminile e la nostra parte maschile. Quando noi andiamo oltre, vabbè, non ce la facciamo. È più forte di noi, questa sfida è più grossa di noi, non riusciamo, gli altri facciano come vogliono, io dico sì, oppure mi metto in una posizione e invece a un certo punto poi uno fa questo dialogo tra il maschile e femminile. Quando noi stiamo da soli, facciamo sempre questo dialogo, cioè ci dividiamo in due e incominciamo a dialogare. Una parte di noi incomincia a dialogare con l'altra. Questo è quello che diceva che avviene da parte di Virginia Woolf. Ogni nostra coscienza è caratterizzata dal fatto che avviene un dialogo. Quando questo dialogo si interrompe, e poi noi abbiamo la rappresentazione che debba venire ovviamente a livello familiare, ovviamente a livello dei contesti gruppali, quando questo dialogo si interrompe inizia ad aumentare la possibilità che noi regrediamo ad un tipo di cultura violenta. Quindi è ovvio che chi è portatore di femminilità anche a livello estetico, esterno, sarà sempre soggetto a questo tipo di attacco. E la sua forza non potrà essere altro che la cultura. Cioè la capacità di ristabilire le regole per far crescere la cultura. Così come la coscienza dell'essere umano è cresciuta da duemila anni a questa parte, noi abbiamo la possibilità di far crescere questo livello culturale. Paradossalmente, mi riappello al discorso iniziale, il modo per poter fare crescere questo livello culturale a livello comunitario è la decrescita. È la decrescita dell'individualismo, che è il paradigma attraverso cui noi abbiamo funzionato, perché è il paradigma occidentale, capitalistico, con tutte le cose che noi sappiamo. Anche maschilista, anche paternalista. Un modello gruppale è un modello comunque che comprende l'idea dell'abbraccio, che comprende l'idea dello stare insieme. Poi ci sono altre situazioni che potrebbe essere interessante vedere insieme. Ma io vi ho parlato della mia visione, vi ho parlato dei miei strumenti, ho provato ad andarmi a vedere alcune cosette, ma ritengo in questo momento in maniera autentica di essermi dato per potermi confrontare con voi per qualsiasi cosa e sono comunque a disposizione. Grazie a Massimo Baroni. Abbiamo pochi, ma ancora qualche minuto per le domande, qualora ne aveste. Io mi permetto, avendo rinunciato al mio intervento, di fare la prima. Scusate la prepotenza, ma è proprio a Massimo. E volevo chiedergli, scusa la postura un po' strana, volevo chiederti se esiste una psicologia della femminilità e se questa può essere messa in correlazione con la psicologia della politica. Stiamo parlando di una domanda facile facile. Questa domanda facile facile io non so rispondere perché ovviamente nel momento in cui provassi, nel momento in cui io, aiutatemi, provassi, va bene, l'errore l'avete fatto voi, l'avete detto prima voi, e nel momento in cui provassi a rispondere non potrei fare altro che darmi una risposta muscolare. Cioè dire sì, è vero, sì, l'hanno fatto tanto. L'unica cosa che posso dire è che è molto difficile cercare di essere etici, quindi mantenere le regole del gioco e cercare di non farsi prendere da quello che a volte è la rabbia, una rabbia lecita rispetto alle cose che non vengono fatte bene, rispetto alle occasioni perdute, rispetto a chi parla e vorresti che stesse magari in silenzio perché senti che chi sta in silenzio magari vede più lontano, ha una maggiore capacità di di portare certe cose in profondità, perché noi dobbiamo ricostruire tutto un sentimento, una cultura in Italia perché in questo momento manca proprio la capacità di creare dei solchi dei solchi e di intrecciarli. Quindi nella politica io ho letto un pessimo saggio di Samuels che parlava della psicologia della politica e diceva che era costituzionalmente comprensibile il fatto che il politico mentisse perché in un'ottica junghiana il politico è ovviamente nel suo contesto nella sua cultura d'appartenenza è possibile comprendere il fatto che lui si impegni o dica sia determinate cose perché fa parte delle regole del gioco. Io rimasi sconvolto quando lessi questa cosa è un americano del 96 eccetera e ovviamente non so ancora come risolvere il problema di non riuscire a rispondere alle telefonate di non riuscire a rispondere all'email di non riuscire a rispondere sempre in maniera corretta garbata a mettermi in posizione d'ascolto perché sono qui per questo quindi ci sono dei problemi veramente sostanziali però in teoria la politica dovrebbe essere questo una mezzaluna una posizione di ascolto che si mette a disposizione di chi è riuscito a creare consenso e di chi è riuscito a portare tra virgolette il precipitato di questo consenso nelle maglie di chi dovrebbe stare lì a piggiare i bottoni non so se ho risposto direi decisamente di sì grazie allora abbiamo un intervento del dottor o dottoressa Trane dottor Trane sì buonasera a tutti Franco Trane insieme alla mia amica Sicilia noi gestiamo e produciamo un cineforum e a marzo noi abbiamo fatto un ciclo proprio sulla violenza sulle donne con il ciclo seguente che era invece il sonno della ragione genera mostri e l'ultimo ciclo è il controllo della società abbiamo provato a vedere su quattro continenti abbiamo fatto quattro film che rappresentano quattro continenti gli Stati Uniti l'Europa l'Africa e l'Asia per cercare di capire com'è che l'uomo si comporta sempre nello stesso modo praticamente c'è la donna che subisce e l'uomo che è violento e andando indietro con il tempo siamo arrivati al paleolitico non la voglio fare molto lunga però normalmente i gruppi del paleolitico praticamente raccolte caccia non avevano la conoscenza della paternità era un gruppo che viveva il poliamorismo perché nessuno stavano lì vivevano mangiavano e facevano l'amore tutto questo cambia quando con il neolitico incominciano a diventare estanziali il che vuol dire che dall'osservazione quotidiana di quello che succedeva i frutti che nascevano gli animali che si accoppiavano e figliavano e tutto quanto gli uomini e le donne si accorsero che mentre prima la donna era considerata una procreatrice tanto è vero che le prime statuette erano le venere paleolitiche con rappresentazioni dei genitali molto sviluppate in quanto questo voleva dire mettere al mondo i figli non si sapeva come poi incominciarono a capire che forse anche l'uomo c'entrava e a quel punto ci sono delle variazioni ci sono le statuette non sono più delle veneri sono della famiglia rappresentata da una donna un uomo un bambino Iside Osiride Orus per esempio in Egitto e in Egitto c'è un caso particolare in cui ad un certo punto c'è una addendera c'è un basso rilievo dove c'è un uomo un bambino e un paio d'ali che è lo spirito che si autogenera questo vuol dire di fatto che la donna è stata eliminata dal potere non era una domanda era solamente volevo concludere siccome tutta l'analisi è stata fatta sull'attualità nel senso che attualmente la situazione è questa prendiamo atto che è questa come superare allora la conclusione secondo noi che abbiamo fatto questa ricerca era che bisogna sostituire il sistema competitivo che è un regime democratico nel quale di tanto in tanto si dà il popolo l'illusione di essere sovrano l'ha detto Mussolini con uno partecipativo e solidale basato sull'uguaglianza derivante dall'accettazione e dalla valorizzazione delle differenze che permetta di vivere in modo armonioso profondo intenso non accontentandosi di un godimento futile e veloce ma ricercando la catarsi che può dare un appagamento totale mille grazie per il suo intervento non credo che preveda una risposta da parte dei nostri relatori è stato abbastanza chiaro e abbiamo Rita Chiavoni che ha chiesto di poter fare una domanda sì io sono un medico psichiatra psicoanalista iunghiano e sono qui in veste cioè come usb formazione allora diciamo che mi dispiace che ci sia poco tempo perché non è possibile approfondire molti degli spunti interessantissimi che ho ricevuto diciamo due cose semplici volevo dire anzitutto concordo col dottor Ciccone anche essendo junghiana di non porre la questione in termini di maschile e femminile quanto piuttosto di uomo e donna nel senso che l'uomo e la donna sono storici il maschile e il femminile sono semplicemente delle come dire delle invarianti che noi immaginiamo come invarianti cioè pensiamo a quello che succederà quando tutti i figli nasceranno in provetta allora detto questo appunto il discorso è complesso quindi non non mi dilungo il punto invece secondo me uno dei punti che ho rilevato nella discussione all'inseguimento di una identità maschile o femminile che sicuramente c'è una differenza e concordo con chi dice che appunto questa differenza come dire è uno scarto che non si compenserà mai all'infinito c'è comunque un punto un dato sulla violenza sulle donne che è il dato della violenza cioè dell'elemento violenza cioè di fatto l'uomo patriarcale finora la cultura patriarcale ha dominato la donna fisicamente allora questa differenza fisica è un dato oggettivo fisica non nel senso diciamo di genere sessuale fisica come forza cioè sarà perché sono piccola ma insomma qualsiasi uomo se mi dà uno schiaffo mi stende per terra questo forse non succede a tutte le donne allora rispetto a questo discorso credo che uno dei punti fondamentali per esempio sia anche quello diciamo di rendere conoscenza ai ragazzi i nostri figli che diciamo hanno in mano un'arma forse gli uomini non se la sono mai posta questa questa questione sì lo so però voglio dire due parole ha ragione mi perdoni abbiamo le lo dico sei minuti in tutto abbiamo anche un'altra domanda tutto qua sì allora io quello che per arrivare a conclusione volevo solo porre una domanda a tutti in relazione all'ultimo intervento che è stato fatto sulla donna sulla citazione di Virginia Woolf sulla libertà economica allora io penso che questa società sia in crisi dal punto di vista patriarcale discorso lunghissimo su cui non voglio cioè pensiamo che le donne che hanno dominato negli ultimi tempi hanno dominato le donne Thatcher abbiamo la cancelliera e quindi il femminismo in qualche modo è stato inglobato dal capitale questo è il punto quello che conta oggi è solo diciamo il profitto uomini e donne hanno perso totalmente l'identità di genere sono solo dei servitori del capitale finanziario quindi questo problema che oggi viene messo alla ribalta a mio parere è un problema che ha molto della distrazione di massa scusate è complesso il discorso non lo vorrei lasciare così però lo devo lasciare direi di far fare anche l'ultima domanda e di rispondere poi insieme alle due ultime domande Domenico Falconieri grazie buonasera vorrei fare una domanda senza escludere gli altri per i loro interventi però direttamente la signora Dragotto ho seguito forse non ho ben capito tutto il suo discorso però mi sembra di aver colto nella sua presentazione come una sorta di antitesi come una sorta di risentimento da parte sua nei confronti dell'uomo nei confronti dell'uomo come essere umano e questo mi ha fatto pensare io ho sempre avuto l'idea di ho sempre difeso a spada tratta l'idea ho sempre combattuto voglio dire l'idea dell'uomo è un'idea maschilista forse un po' di maschilismo in ognuno di noi perché viviamo in una cultura che ci ha insegnato questo però sempre combattuto fin da bambino l'idea che un uomo possa essere un figo se ha 100 donne una donna se ha 10 uomini se è una puttana e in questa contrapposizione io mi pongo questa domanda ma perché continuiamo a parlare sempre di uomo e donna e perché non parliamo di esseri umani forse parlando di esseri umani riusciremo a superare questa nostra contrapposizione questa nostra battaglia continua perché io poi la vivo come una battaglia nel senso che la donna siccome ha subito come diceva anche la signora Bagniera ha subito per secoli un'oppressione da parte dell'uomo oggi cerca in qualche modo di rivalersi ma anche sfruttando un modello maschile che non le compete assolutamente dal punto di vista proprio della donna non è nel suo essere quindi ecco la domanda è questa perché continuiamo a parlare uomo e donna e non perché di esseri umani io direi a Rita Chiavone se vuole rispondere il dottor Ciccone e poi la dottoressa risponde ma io in tutto il mio intervento raramente ho usato questa differenza uomini e donne ho parlato di femminile di principio femminile e principio maschile quindi non c'è nessuna non c'è nessun giudizio sull'uomo sull'uomo nel senso di genere ma non ho parlato di questo mi dispiace non ho detto questo ho parlato di principio maschile e principio femminile ho parlato di come dentro di noi abbiamo schiacciato il principio femminile ma questo tutti uomini e donne e come il principio maschile sia comunque porti dei valori ma spesso a discapito di quello femminile semplicemente questo grazie dottoressa direi è rimasta in sospeso la risposta del dottor Ciccone e poi possiamo liberare tutti i dipendenti e andare a casa solo una micro battuta a questo punto perché non abbiamo spazio io sono convinto invece che continuare a leggere il mondo anche guardando il conflitto tra i sessi la produzione di potere di dominio su di noi non solo attraverso il dominio del potere finanziario ma anche attraverso per esempio le relazioni tra i sessi è una categoria in più che ci aiuta a capire quello che succede dire ormai c'è solo il dominio del capitale finanziario e che quindi siamo tutti tutti i gatti sono grigi dentro questo schema diciamo ovviamente non è certo no no ma invece lo dico perché l'osservazione che almeno a me viene da fare dopo questa discussione è che su questo tema le relazioni tra donne e uomini la costruzione del nostro immaginario nella sessualità nelle relazioni di coppia eccetera eccetera è un terreno su cui siamo disabituati a discutere insieme la politica parla di economia infrastrutture legge elettorale quello che vi pare a voi questo qui sembra un tema che è o da psicologi o da persone così ognuno ha le sue curiosità culturali io ho letto quella cosa ho visto quella invece il problema forse che dovremmo provare a rimettere anche al centro della politica intesa come pratica collettiva di trasformazione delle nostre vite le relazioni tra donne e uomini le relazioni tra uomini le relazioni tra donne perché vedo che la discussione di oggi ci fa dire che non siamo abituati a farlo e forse perdonatemi io non sono il Movimento 5 Stelle confesserò che sono di Selle ma questo non credo c'entri niente credo che però ci dovrebbe forse far pensare una cosa cioè che anche quando si entra nelle istituzioni dovremmo continuare a portarci questa ricchezza cioè di superare la separazione tra politica intesa come dimensione istituzionale e vita delle persone e in questo senso forse oggi dovremmo mi accorgo che dobbiamo fare questo sforzo tutti insieme perché non siamo abituati a parlarne e quindi o lo deleghiamo agli esperti agli psicologi o agli antropologi o a qualcun altro e non ci riprendiamo noi questa cosa gli antropologi già però oggi no le citazioni antropologiche erano queste e solo una battuta questa idea del corpo maschile che non genera io nel libro provo a parlarne secondo me dentro questo c'è molto questa idea cioè c'è una rivincita maschile contro la corporità femminile noi non generiamo e abbiamo detto il corpo è cosa bassa il femminile è riproduzione biologica io invece penso alla razionalità e alla strazione da lì abbiamo avuto l'ansia di costruire un potere sulla corporità e questi sono i risultati forse però ci sarebbe troppo a dire grazie l'ultima domanda proprio velocissima per la dottoressa Dragotto da Andrea Pietrangeli grazie che poi è una conclusione madre vuol dire misura se analizziamo l'etimologia se vediamo la simbologia dell'uomo è un cerchio con una freccia puntata verso l'alto se vediamo il simbolo della donna è un cerchio con una croce quattro elementi secondo voi non è giusto che gli uomini adesso lasciano il passo alle donne per quanto riguarda la materia gestire potere e denaro perché hanno la giusta misura di cosa vuol dire gestire proprio la materia e l'uomo invece inizia a capire la sua parte energetica per portare qui un po' più di spiritualità di accoglienza la domanda sia un po' per tutti non lo so in questo caso sinceramente mi sentirei più di fare davvero di scoprirci insieme che cosa possiamo portare come uomini come donne cioè qual è come diceva un po' Stefano questo arricchimento mi è piaciuta molto questa frase io mi sono arricchito conoscendo la sessualità della donna cosa che mio nonno non poteva fare quindi più che dire a chi tocca fare uno a chi tocca fare l'altro come lo faccio io come lo fai tu e che cosa porta questo come arricchisce ecco più che fare noi la terra e voi lo spirito come per me è terra come è per te come per me è spirito come è per te e quindi questo come arricchisce tutto cioè come arricchisce la vita la politica come ce la raccontiamo non lo so come ce la raccontiamo sì come ce la raccontiamo la narrazione sì 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 che cosa come mi arricchisci tu tu che sei diverso come dice forse una canzone almeno tu nell'universo almeno tu nell'universo ok grazie comunque benissimo abbiamo concluso questo incontro io ringrazio tutti i relatori per aver reso il mio lavoro abbastanza semplice chiedo scusa alle persone che ho dovuto interrompere per il rispetto dei tempi purtroppo fa parte del mio ruolo quello di interrompere le persone quando si dilungano troppo soprattutto alla dottoressa che ha avuto veramente poco tempo ma magari in un prossimo incontro ci sarà l'opportunità di avere più tempo Stefania l'ho ringraziata prima quando tu colpevolmente sei arrivata a ritardo ringraziamo soprattutto loro che hanno reso possibile questo incontro e se la vuoi ringraziare personalmente ti passo il microfono no non voglio personalmente ringrazio le persone personalmente quindi però mi ero ovviamente non c'ero prima quindi di solito le donne sono spesso abituate nel nostro contesto a essere colpevolizzate per inadempienza e io non c'ero chiedo scusa ma volevo ci tenavo particolarmente a ringraziare Stefania Coroneo insomma tanto che vede volto a ringraziare come molto ti da che non c'ero che non c'ero non c'ero ma non c'ero non c'ero vitale sono cioè che